Più di 130 milioni di persone nel mondo hanno bisogno di assistenza umanitaria a seguito dei conflitti armati e dei disastri naturali. In Siria, ad esempio, più di 13 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria a causa della guerra. Nello Yemen sono più di 20 milioni. La Repubblica di San Marino ha condannato e condanna fermamente le violazioni dei diritti umani e delle leggi umanitarie internazionali commesse in Siria da tutte le parti del conflitto, senza distinzione alcuna. Violazioni che purtroppo continuano anche in questi giorni, mentre noi siamo qui riuniti per parlare del nostro impegno per la pace e la sicurezza. San Marino sostiene l'azione del Segretario generale in Siria attraverso il suo inviato speciale ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto.